Salvezza Per me no, ancora no Perché c'è ancora partita Dobbiamo fare meglio, dobbiamo vincere Per me è stato così Però a 56 Se 48 è una quota Che negli ultimi 4 anni è bastata Per salvarsi Io penso che ancora forse è un paio di punti Per la sicurezza matematica E sono punti da conquistare Soprattutto fuori casa Dove il Brescia ultimamente invece Non ne ha fatto uno A differenza del Rigamonti Dove li ha fatti quasi tutti Certo, quella sì è vera Però come dici Dobbiamo cercare di vincere Anche queste ultime partite Che restano fuori il caso Dobbiamo fare meglio Tu pensi che il Brescia Faccia delle partite Eccezionali Contro squadre di alta classifica Perché queste squadre Lo lasciano, giocano E quindi ci lasciano giocare E facciamo fatica con le piccole Perché si chiudono dietro O c'è qualche altro motivo No, secondo me Non c'è nessun motivo Però È tutto uguale Questo è un campionato Un po' strano Ogni partita È un partito Difficile Però non c'è la squadra grande Non c'è la piccola Tutti sono uguali Sei d'accordo con chi dice Quando In balo e Cupiz Giocano bene Sono in forma Il Brescia gioca bene Quando in balo e Cupiz Non sono in giornata Il Brescia gioca male Sei d'accordo? No, non sono d'accordo con questo Perché giochiamo Dalle squadre Se la squadra sta male Giochiamo male Tutti stanno bene Non c'è Cupiz Non c'è in balo Però è anche vero Che Cupiz E in balo Soprattutto ultimamente Hanno imparato a fare Tantissimi difensori E questo ha portato Un grande beneficio Per la squadra Sì Quella è la nostra forza La nostra armi Aiutare Aiutare In tutte le Come posso dire In tutte le parti Del campo In tutte le cose Quella è la nostra armi Hai fatto un grandissimo gol Mi hai rivelato uno Un po' più facile Che voto ti daresti Fino a questo punto Della stagione Qui a Brescia? Come? Scusa Non ho capito bene Che voto ti daresti Fino a questo punto Della stagione Con Brescia Ti stai trovando bene Ti senti bene Con i compagni? Certo Sì Sono in un Un gruppo giusto Dopo quel gol Mi sento Che sono Che ho fatto parte Di una squadra Ho fatto parte Di un gruppo Stradinario Sono molto contento Quindi questo Volevo arrivare La domanda dopo Al futuro Non ci pensi? Io ancora Non sto pensando Al futuro Sto pensando A fare bene Qui Fino alla fine Al futuro Penso Il mio procuratore La società Tu sei stato Scoperto Nel torneo Di Crema Dossena Certo Quindi tu hai giocato lì Sei stato nominato Il miglior giocatore Del torneo Lì Tu sai Che in quell'occasione Poco dopo L'interessamento Del Palermo Dove poi dopo Tu sei andato Si interessò a te Già ai tempi La Juventus Lo sapevi? Sì Lo sapevo Prima 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 Il torneo A A Crema Lo sapevo Perché mi diceva La mia Ex procuratore Però Io Non credevo Io non credevo Non metto Quella in testa Continuare a fare Quella che devo fare Basta Invece il futuro Del Brescia È un futuro Che Si gioca In 11 Giusto? 11 partite Che mancano È un futuro Che ormai Si parla di playoff In Brescia Sono in nove Al momento A giocarsi A otto posti Quante possibilità Ha il Brescia Di arrivarci Davvero A questi playoff? Boh Abbiamo tutte le possibilità Perché insieme Siamo Siamo Più forti Siamo Abbiamo tutte le possibilità Dobbiamo solo Cercare di concentrare E Cercare di vincere Tutte le partite E fare bene Hai un obiettivo Per me Un obiettivo personale Per i gol Quanto vuoi arrivare? Il massimo possibile 8-10 Anche 10? Anche 10 È stato meglio Però Aspettando Adesso segni Quasi tutte le partite Spero di sì Che poi tra l'altro Tu hai segnato diversi gol Nella primavera Del Palermo Ma come gol Da professionista Li hai fatti Soltanto a Brescia A Brescia Sì Quindi questi tre gol Sono i tuoi unici Tre gol da professionista Certo Te li ricorderai Anche tra 20 anni Sì Per sempre Perché Mi sembra Una cosa straordinaria A me è posto Grazie Grazie